ragazzi abbiamo farmato in maniera velocissima no non si vede se vuoi venire vieni qua ho fatto questo evento alla velocità della luce c'è questo mini pool e logicamente non lo facciamo a botte di uno perché altrimenti facciamo proprio un rosic interno che non finisce più facciamo questo mini bull in vocazione a san gennaro san giuseppe san qualsiasi cosa ma ti prego fammi uscire qualcosa di decente ti scongiuro ti prego ti scongiuro andiamo subito senza perché tanto più ci pensi meno sono le possibilità che esca qualcosa quindi via come va va nata devi andare almeno nell'ultimo ok già iniziamo male luce i ricordi uno ssr c'è dai 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 lo sai chiude gli occhi del momento fatale non mi direi il primo aspetta aspetta e va bene ma questa volta la fortuna è stata dalla mia anche in tutto questo evento dell'anniversario non ho avuto un briciolo di fortuna un briciolo singolare questo questo tiro di boomerang lo brucerò per passarlo al misaki tiro di raichu giusto per fargli avere una tecnica in più o non so cosa ne farò ma non mi serve e vabbè ragazzi ci abbiamo sperato abbiamo sperato l'ultima possibilità di avere il benji samurai 2018 ma non è stata dalla nostra lasciatemi un like giusto per farmi capire che siete con me nella disperazione ci becchiamo più tardi per qualche partitina online alla prossima alla prossima